Anche se di quel mondo ha perso le coordinate, quel mondo di cui ne ancora del tutta ha intresa la sua pelle, di quella casa rimane solo un quadro e l'ultima foto, da lui voluta e scattata lì davanti, come per salutare quella vita, inconsapevole testimonianza, quell'ultima foto che lo ritrae insieme al figlio e all'ultima vacca, che ha venduto prima di andarsene da lì. Non c'è più la casa, non fa più il contadino e gli rimane solo mio zio come testimonianza di quel mondo e gli rimane anche mia madre, che ha solo il bene che gli ritorna per accudirmi. Anche quel piccolo pezzo di terra che ha in uso frutto e di cui se ne occupa ancora il zio primo, è l'ultima testimonianza di quel mondo. Qualche anno fa ci è andato, forse per l'ultima volta. Grazie 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 Grazie